i famosissimi occhi di johnny schiavo artista italiano già famoso per il monumento al generale dalla chiesa dopo i suoi trascorsi nella moda come fotomodello riprende a lavorare nell'arte qui vediamo quest'opera incorniciata in questa cornice classica in foglia d'oro ma possiamo anche vedere tutti i lavori di schiavo qui abbiamo apache questa tecnica innovativa specchiata con tela acrillico classico poi vediamo parigi il tavolo dell'artista abbandona il passaporto il portafoglio i cucchiai che diventano anche occhiali il rolex abbandona tutti i pennelli per lasciare l'arte ma poi si ricrede e riparte di nuovo in questi grandissimi lavori particolarissimi questa tela le donne rovesciate eccole qua famosissime donne rovesciate e tutta l'accessoristica a livello scultura queste cose così futuristiche anche infantili ma anche geniali le bottiglie del famosissimo amaro pinocchio i nudi insomma di schiavo ci sarebbe da parlare tutto il giorno ma ne parleremo con calma ciao amici e Grazie.